Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio di The Sims 4. Allora, siamo ovviamente con i nostri Beatrice e Mattia ed è mercoledì e sono le 6 della mattina, sarà un'oretta, neanche 57 minuti, Beatrice comincia a lavorare. Io non capisco come mai sia mercoledì quando noi ci siamo lasciati che era sabato mattina. I misteri di The Sims, comunque va bene. Allora, come vedete sono ancora vestiti per la festa in bianco e nero. Allora intanto vai a fare un attimo la pipì, prima di andare a lavoro, anche tu devi farla, allora andiamo nel bagno di sopra. Tu oggi lavori poi? Sì, fra tre ore, benissimo, ok. Poi Mattia mi ha mollato il piatto qua, quindi ripuliscilo, stava mangiucchiando non so che cosa. C'è qualcosa di lasciato fuori qua in cucina? No, se no mi va male. E io consiglio un pisolino di 20 minuti prima di andare a lavoro. Neanche 10 minuti, sarà sempre meglio di niente. Ok, e allora partecipiamo. Eccoci qua. Ci siamo. Primo giorno di lavoro. Allora, togliamo qui la cosa dei bisogni. Cosa dobbiamo fare? Allora, finiamo alle 3. Ok, dobbiamo esaminare le orecchie di un paziente, consegnare il cibo a un paziente sul lettino medico e per elevare un campione da un paziente con un tampone. Ok, allora cominciamo. C'è già qualcuno? Sì. Chi c'è? La Sima? Ah, ma si odiano quella Daniela Alberghini. No, davvero? Però io voglio andare dalla Daniela Alberghini. Allora, vieni qui e ci occupiamo di lei. Benissimo. Ciao, Daniela. Allora, esaminiamo le orecchie dobbiamo. Tutto bene? Ok, dobbiamo prelevare. Ah, misuriamo anche la temperatura. Facciamo tutto quello che riguarda gli esami. Benissimo. L'attrice ha eseguito con successo un esame su un paziente ed esaminiamo anche gli occhi. Esaminiamo gli occhi, vediamo se tutto va bene. Perché ha fatto la strabica? Uh, come non stiamo bene. Preleviamo un campione. Preleva un campione con un tampone. Vediamo se riusciamo, facciamo cadere tutto. Eh, niente, non siamo riusciti. Va bene, Beatrice, non ti preoccupare. La pratica rende perfetti, come si suol dire. Hola. Trasferisci il caso del paziente. Mattia andrà a lavorare fra un'ora. Ok, devo trasferirlo, suppongo, tipo, a lui che è medico, no? Giusto. Allora, vieni a trasferirlo. Salve, può occuparsene lei? Certo, me ne occupo io. Benissimo. E analizziamo il campione. Daniele alberghini. Perché non si vede il... Ok. Saltella, però. Va bene, tiriamo giù le pareti, se no soltellerà l'interno. Che professionale è la nostra Beatrice. Sei bravissima, cavolo. Che poi l'avevamo fatto aumentare anche l'abilità di logica finché era piccola, se vi ricordate. Eh, c'era quasi a livello 5, quindi sì. Diciamo che se la cava piuttosto bene. Oh, volevo andare avanti. Benissimo. Mattia ha il lavoro e gli diciamo di lavorare solo. Ok, analisi completa. Eh, ok. Allora, Beatrice è rimasta confusa dai risultati discutibili. Eh, torniamo sempre da lei, visto che avevamo cominciato, e discutiamo dello stato di salute in generale. Ok. E le diamo anche da mangiare. Consegna il cibo. Perché sta attesa. Magna, cara, magna. Tutto buonissimo. Benissimo. Allora, questi li abbiamo fatti. Adesso. Mi sa che dobbiamo cambiare paziente, perché lei le orecchie le abbiamo già fatte. Oppure possiamo continuare con lei? No, possiamo rifarlo. A me piace trovare anche le rediagnosi, insomma. Ma mi sa che forse non siamo bravi abbastanza. Gli risultati sembrano validi, ma i dati l'hanno confusa. Eh, sì, ma al caso del paziente l'abbiamo già trasferito. Sistemiamo il lettino. Dopo lo rifacciamo di nuovo. Bravissima. Sistema tutto. E aspetta. Per elevare un campione. Allora, lo facciamo da lei. Ah, mannaggia. Il paziente è già stato diagnosticato. Ah, ok. Ah, sì, è vero, perché ha il coricino rosso. Eh, anche lei però è già stata diagnosticata. Eh, sì. Che succede? Per la malattia. Mannaggia. Allora, facciamo intanto le altre. trasferiamo il caso del paziente e poi facciamo la ricerca sui rapporti sanitari. Oh, mannaggia. C'è tutte le spirali sul corpo. Siamo in ospedale, siamo pure ammalate. Mi sa che siamo noi, forse, i pazienti. Ok. E adesso ci mettiamo, visto che c'è il computer, ehm, libero a fare la ricerca, che dovrebbe essere quella, se ho cliccato giusto. In più qua è tutto sporco. Esercitati nell'analisi biomedica. Sì, ma prima asciuga, per favore. No, no, stai ferma. Asciuga queste due, basta. Non importa che tu vada a asciugare le altre. Ed esercitiamoci dopo. Che mi dà fastidio che sia a disagio, perché l'ambiente fa schifo. Basta così, dai. Vieni ad esercitarti. Uh, se non caschiamo prima, però. Ok, velocizziamo qui l'analisi. Benissimo. Uh, abbiamo cominciato anche la collezione di elementi. Nuovo elementi ho trovato. O zinani. O zinani, o? Cosa c'era scritta? Uh, bello. Figo. Dobbiamo passare lo straccio su una pozza. A proposito. Allora, veniamo su questa. E facciamolo su questa. Mi sa che dopo dovremo... Far ammettere un nuovo paziente. Ma perché ci sono pozze anche in palestra? Qualcuno se l'ha fatta addosso o ha sudato l'anima? Non ci sono altre spiegazioni? Ok, dai. Limitiamoci a questa qui. Sistemare il lettino medico. C'è un lettino medico da sistemare? No, sono tutti sistemati. E allora, siccome non abbiamo più pazienti, ammettiamone qualcuno. Ammettiamo la signorina. Ammetti il paziente. Sennò non abbiamo più nessuno da esaminare. Quanti bimbi? Salve, eccoci qui. Buongiorno, prego, si sieda. E cominciamo. Allora, esaminiamo gli occhi. Ma i capelli rosa. Mi spiega, per favore. Dobbiamo prelevare anche un campione. Quindi, preleviamo il campione. Infatti è perplessa dai capelli rosa. Uh, ce l'abbiamo fatta al primo colpo. Mi emoziono tutta. E cosa dobbiamo fare? Misurare la temperatura. Benissimo. Abbiamo anche quasi finito la giornata. Esaminiamo le orecchie. Più ne facciamo, meglio è. Esamina le orecchie. Ma sti qua li si può dimettere con una cura o qualcosa. Cura il paziente. Diamogli la cura, visto che è già stato diagnosticato. Almeno sistemo il lettino. Il paziente è curato. Benissimo. Allora sistemiamo il lettino. A posto. E trasferiamo di nuovo il caso al nostro amico. Come ti chiami? Medi e il Habib. Tutti nomi esotici. Me lo accetti il caso? Benissimo. Discuti dello stato di salute generale con un paziente. Allora torniamo da lei, anche se ormai il tempo è quasi finito. Siccome è stanca, non chiedo un prolungamento dell'orario. Ma siamo stati bravissimi oggi. Proviamo anche ad analizzare questa se riusciamo. Ma non credo. Eh no. Fine del turno. Abbiamo guadagnato 240 simone. Bene dai. Allora possiamo tornare a casa. Ok. Eccoci arrivati a casa. Benissimo. È andata veramente molto bene. Dobbiamo curare due pazienti e potevamo dare la cura anche a quell'altra. Mannaggia. Vabbè dai. Prossima volta. E adesso abbiamo due giorni liberi. Non capisco perché. Ma va bene. Intanto il primo giorno è andato. Allora tu hai fame prima di andare a dormire. Allora io credo che... Non possiamo eliminarle queste. Perché non me le fa trascinare. Orca ho chiuso il frigo. Mannaggia. Allora abbiamo l'insalata che ci aspetta. E queste foto di cos'erano? Ah la foto per la tomba della madre. So che suona male ma... Ok. Vieni a mangiare. Dove vai a mangiare? Ah. Vieni di qua. No vai fuori. Beh sì giusto. È una bella giornata. È giusto godersela. Hai ragione. Ah perché c'è ancora una tavola preparata. Quella è venuta qua. Andrà potere da figlia anche a nanna perché sei esausta. Prima però sprepara. Fai la brava bambina. Bravissima. E vieniti a riposare perché insomma è stata una giornata pesante. E Mattia che ora torna a casa. Adesso. Alle 5. Ok. Abbiamo guadagnato 208 simone. Allora siamo stati anche bravissimi. Ok. Allora vieni anche tu a mangiare. Dove vai? Ma chi è sto bimbo? Beh sì si mangia in piedi come cavalli ovviamente. Perché no? Allora siccome lei domani è al giorno libero. Ah tu no. Stavo pensando che avendo il giorno libero potevamo andare al bullying. A giocare a bullying. Non lo so. Così. Lei ha degli amici. O qualcosa. Vabbè la Nancy che è morta però. Questa. Tassima. Patrice. Sì. Ha degli amici. Potremmo andare con degli amici a giocare a bullying. Così. Per fare qualcosa di diverso è un po' che non andiamo al bullying. Ok. Ripulisci però per favore. E vieni anche tu su a dormire anche se si va a letto come i galli e le galline. Ma ragazzi la stanchezza è stanchezza. Infatti poi alle 9.40 sono svegli come dei grilli. Va bene. Allora vieni qua a fare la pipì e ti fai anche un bel bagno. Un'immersione di lavanda. Schiuma di lavanda. Sì 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 sì. Così ti rilassi. Hola. Guarda lì la lavanda bella galleggiante. Certo che sei bella anche con la maschera all'argilla sulla faccia. Ciao raga quando una è bella è bella. Benissimo ci siamo anche rilassati. Ok. Allora. La tovaglietta. Potremmo appenderla la tovaglietta qui in cucina no? Tipo qui. Non è neanche finita poi. Però intanto sta lì. I compiti possiamo buttarli via. Non ci servono più. E l'elemento qui dove lo possiamo mettere? Qua sopra ci sta al momento. Eventualmente se poi ne guadagniamo altri potremmo metterci una mensolina. Allora sono le 11 e tu avresti un po' di fame. Vetti a mangiare una macedonia. Comunque raga no Beatrice non è incinta. Che una ragazza mi ha detto ma Beatrice è sempre incinta. No non è incinta. Sapete che non faccio gravidanze descondon alle vostre spalle. Semplicemente lei ha la fisicità di sua mamma Maria. Se vi ricordate anche Maria c'ha un po' di pancia e c'ha a sedere piuttosto in fuori. È proprio la loro fisicità. Forse con un po' di palestra magari la pancia si appiattirebbe ma non voglio creare sim troppo uguali fra di loro. Anche lui è sveglio. Ciao anche a te. Cioè per esempio anche lui c'ha un po' di pancia. Però diciamo che non voglio diventare ossessionata dalla palestra e creare sim tutti palestrati oppure simmine tutte magre. Cioè non rispecchierebbero la realtà. Lui fa la pipì e ride. Carino. Però comunque tu una corsetta te la puoi andare a fare insomma. Diciamo che ecco sì una corsetta ogni tanto se la faranno. Ma no che diventiamo ossessionati da questo ecco. Ok. Se mai mezzanotte e mezza si te svegli come dei grilli. Beh tu domani non vai a lavorare e mi può star bene. Ma lui sì che va a lavorare. Vabbè. E ci guardiamo non lo so i sim morti viventi. Giustamente a luna di notte si guarda un film dell'orrore. Lui intanto continua la sua corsa inesorabile. Verso la forma fisica. Basta. Beh giustamente. Sti cacchi. Chi me lo fa fare? Allora unisciti anche tu al film dai. Visto che devi divertirti. Sono stupendi sti pezzi fatti con The Sims 3 comunque. Ed è stupendo quello zombie. Attenzione ragazzi. Limonate poco che è infatti. Ecco basta. Contagiato. Vedi. Anche Beatrice sta dicendo sì ma sei stupido. Silenzio ha detto su Beatrice. Pasi. Sei zitta. Devo ascoltare. Ma possono parlare di qualcosa durante il film? Cioè di qualcosa che riguarda il film? O solo dopo? Eh mi sa solo adesso che il film è finito. Ma dai è piaciuto a tutti e due. Adesso possono... Lamentati del regista dai. Eh ho sbagliato a premere la freccia. No regista raga non ci siamo proprio eh. E lei dice ma come? Come non ci siamo? E poi mi ha una domanda sulla trama del film. Che questa è proprio... Cattiva per chi non ha seguito una castracca del film. Ah c'era un cestino nel film. Beh dai incoraggiante. Vuol dire che almeno risveglia per due minuti. E chiacchieriamo degli attori. Però sono le due. Dopo lo faccio lavare anche lui. Possiamo parlare di qualcos'altro? Gli attori abbiamo già detto. Discuti di una scena d'orrore. Qual è stata la tua scena d'orrore preferita? Beh la mia personalmente è quando lo zombie ha morso il tizio. È anche l'unica che ho visto. Eh. Di scuola l'abbiamo già fatto. Chiacchierare degli attori anche. Dichiara il genere di film preferito. Orrore. Carino ne ho appena dato un bacino. Basta ho deciso Bea. I film dell'orrore mi piacciono da morire. Mattia ha dichiarato che i film dell'orrore sono il suo genere preferito. Ogni volta che guardo a film dell'orrore è più probabile che lo apprezzi. Figo. Non la sapevo sta cosa. Bello, bello, bello. Mi piace. Mi piace. Allora. Signorino Mattia. Volevo pigiare sul frigo. Ha fame. Quindi vieni a prendere una porzione. Vabbè. Il vulcano. Ascolta. Non ne faccio niente. Ecco ci sono ancora le foto che avevamo fatto con Beatrice. Però sono quelle piccole. Dovrei e potrei anche farlo adesso. Sì, finché mi ricordo. Comprare una macchina fotografica in modo che si facciano foto un po' più grandi. Allora facciamo così. Allora questa è quella mediocre. Questa è quella super figa. Ma sì dai abbiamo un po' di soldini. Porca. Ok. Benissimo. Allora mettiamola nell'inventario di lui. E dopo ci facciamo una bella foto. Stavo pensando che potevamo fare una foto anche alla casa. Da davanti. Siccome è bella. Tipo non so. Quelle foto che fai. Perché è sera adesso. Si vede poco o niente. Quelle foto che fai magari. I primi tempi. Tipo ah la prima casetta. La nostra prima casetta. Non so. Mi piaceva l'idea. Vabbè te lo sposto io perché voglio che ti fai una foto con Beatrice. Anji sarebbe il cheese in Simlish. Allora centriamo bene. La voglio grande o media. Che grande sono tanto grandi. Facciamo media dai. Centriamo un po' meglio. Ok. Sempre cinque. Ok. E adesso. Questo lo metto a lavare io qua in bagno. E tu vieni a farti la doccia. E io adesso mi guardo le foto. Come sono venute. Cinque. Sei. Uno. Due. Tre. Volevo buttare via queste scarse. E allora. Vediamo dove c'è un po' di posto. L'ingresso qui. Si può? O se no qua sulla parete della scala tipo. Alcune. Non tutte. Non ci staranno mai tutte. E aggiungi cornice. Però spostiamo la foto. La mettiamo tipo un po' più in qua. E la cornice la mettiamo bianca? La lasciamo nera? No. Mi piace anche nera. Ok. E intanto. Perché queste qua erano proprio piccole. Però potremmo tenere anche questa. Tipo. Però scegliamo quella di qualità migliore. Tipo no. Tutte due dieci. Come ricordo di quando erano adolescenti. Poi è una posa diversa. Però spostiamo anche questa. Potremmo metterla qui no? Che è piccolina. Abbiamo un po' di posto. Ok. Teniamo la cornice nera. Abbiamo detto. Benissimo. Allora queste. Una. E la due. Le buttiamo via. Casomai creiamo una copia. Ma non credo ci serva. Stupendo. Allora. Sono le cinque. Io un paio d'ore vi rimando a dormire raga. Perché anzi, anzi, anzi. È un pezzettino che non... Che non ci intratteniamo in queste attività. Figurati se non gli va. Ecco qua, dai. Amiamoci un pochino. Ok. Fatto. Soddisfatti. Allora, perché tu non ce l'hai reclamato? Non lo so. Reclamalo anche tu, allora. E facciamo la nanna un paio d'ore. Basta, Luigi, sveglio. Si è stufato. Va bene. Allora. Mannaggia i dipinti. Ma lavoro fra due ore. Forse riusciamo a combinare qualcosa. Facciamo questo astratto. Non pare brutto. Comunque. Eh, niente, Mattia. Dobbiamo andare a lavoro. Lo finirà in un altro momento, dai. Ok. Allora, facciamo sempre... Lavora sodo. Tu sei sveglia e... c'hai fame. Allora, potremmo... No, facciamo colazione a casa. Abbiamo la macedonia. Eccola qui. Ma davvero non le posso eliminare? Mi sa che... È perché non ho la manina. Vabbè, prima o poi riuscirò a eliminarle. Oh, vuole chiacchierare. Certo che risponde. Ma può... Non puoi mangiare parlando al telefono? Evidentemente no. Lascia stare, dai. Rispondi a tua mamma. Pulisco io. Ne cambiamo anche gli abiti. Diffuso dei pategolezzi piccanti. Ahia. Va bene. Allora. Direi che possiamo andare a giocare a bullying. Andiamo. E andiamo via con... Quanti sette possiamo fare? Dai, con quelle con cui abbiamo più amicizia. Che io non so neanche chi sia tutta sta gente. Magari non con i tuoi... Chi sono? Suoceri nuori. Madonna, io con... I gradi di parentela, raga. Un disastro. Manca qualche... Cioè, possiamo portarci via qualcun altro? E andiamo, dai. Eccoci qua. Allora, siamo venuti al centro ricreativo perché mi sono accorta che non ho messo il lotto del bullying nello scenario di Newcrest, che è dove metto tutti questi lotti qua. Quindi mi sono ricordata che al piano interrato del centro ricreativo c'è... ci sono tre piste da bullying, ma questo come vestito. E allora ho detto, beh, piuttosto di niente è meglio piuttosto. Quindi siamo tornati al nostro centro ricreativo, ve lo ricordate? Siamo venuti qui quando Mattia e Beatrice erano piccoli e lei aveva la fase da orso. Se vi ricordate, anche in copertina, loro stavano giocando qui e lei era vestita da orso. Mi sembra quello verde con l'avocado stampato su costume. Quindi noi giochiamo qua sotto così se dobbiamo andare in bagno ci sono i bagni, se dobbiamo mangiare mangiamo. Benissimo. Ma dove vai? No, vi ho detto venite qui per una ragione. Allora, giochiamo a bullying insieme. Vieni qua subito. E vediamo come va. Siamo tanti, caspita. Chi comincia? La signorina qui comincia, vediamo. Ci mettiamo così. Come va? Ma è brava. Quanto meglio il clown triste, bellissimo. La signora ha detto no, io c'ho la sciatica. Lasciamo stare. La vecchiaia è una brutta bestia, Nicola. Anche questa, bravissima. Chi è questa? Anna Colombo. Lui è stato il più bravo fino adesso, almeno ha buttato giù dei virilli. Salve, lei? Ci conosciamo? Bibliotecario. Che figo! E sì, è vero perché l'ho messa come biblioteca questa. Basta, non... Non gioca più nessuno. Che figo! L'aggiornamento del bullying lunare. Wow! Eeeh, bravissimo! Ma nemmeno io sono così brava, mi duele ammetterlo? Io il bullying, cioè sì, una volta forse il famoso culo del principiante. Beatrice, forse tocca a te? O tocca alla signora Colombo? Signora Anna e... no. Cioè, Beatrice, tu non stai neanche giocando. Allora, invitiamo a giocare a bullying la signora Anna e il bibliotecario, visto che noi di qua non giochiamo. Lasciate stare gli inconvenienti, dai. Sì, gli inconvenienti. I convenevoli. Perché le parole si assomigliano a volte? Bea, venite a giocare di qua? Ma non mi sembra siano molto interessati al bullying. Ah sì, beh, tu diciamo che sei proprio il migliore. E dai, sono contenta che ci sia un bibliotecario, almeno c'è qualcuno che tiene d'occhio e si occupa della struttura. Buono, buono. Beatrice! Dice, io non ti ho visto toccare palla da quando siamo qua. Beh dai, secondo tentativo è riuscito a buttarne giù più di qualcuna. Mi sa che il bullying non le piace più di tanto. Eccola qua, fermi tutti. No, lei deve avere dei problemi col bullying. Perché se vi ricordate, anche quando siamo venuti al centro ricreativo si era bloccata un attimo. Quindi proprio... Sì, e poi mi fa praticamente quasi strike. Cioè, sei una maledetta come quelli. Ah, non ho studiato niente. Poi prendono il voto massimo. Sì, signora Anna. Che figo però, hanno messo le scarpe che si intanano col vestito. Ecco, adesso se ne stanno andando via tutti. Adesso che cominciavamo a giocare seriamente. Contentissima lei. Di aver tirato giù un paio di birilli. In teoria dovrebbe tornare a casa anche Mattia fra poco. Stanno andando via tutti, davvero? Sì, signora Anna. Vabbè, dai. Se ne stanno andando via tutti. Ah no, alle cinque torna a casa lui. Allora, sciogliamo il gruppo, va. E vi saluto anch'io allora, visto che andate stanno andando via tutti pian pianino. Tac, tac, ve lo dico io. Tac, tac. Uh, c'è Claudia. Aspetta un attimo, fermiamoci a fare due parole con Claudia, dai. Allora, la abbracciamo come per salutarla. Siete tornati giù. Uh, è stato promosso. Che figo. Salve, Claudia. Vabbè, l'abbiamo salutata, Claudia. Mi sembra avere altro da fare. Quindi possiamo andare anche a casa. Eccoci a casa. Ci siamo, ci siamo. Dove sei? Ah, stai mangiando. Bene, bene, bene. Allora, visto che tu non hai molta fame, vieni qui. E chiedigli com'è andata la giornata, così lui ti dirà della promozione. E allora, chiedi della sua giornata. Com'è andata? Ma sai, amore, mi hanno promosso. Contentissima lei. E cosa ce l'ho dato? Il cavalletto? Un cavalletto, insomma. Quale, vediamo? Sono curiosa. Questo qui. Che è più bello o più peggio di quello che io ho adesso? No, più peggio. Ciao, allora. E no, volevo tirar sui muri. E queste qua potremo attaccarle qua. Ok. Benissimo. Torniamo a noi. Ero curiosa. Sai, io ho giocato a bowling oggi. Ho giocato. Ho toccato la palla due volte, comunque. Lasciamola convinta. Che bello questo, però. E complimentiamoci per l'aspetto. E comunque il signorino ha due belle spalle larghe, eh. Ridendo e scherzando. Ok, allora. Tu qui cosa devi fare? Conseguire il livello 4 di un'abilità. No, di quattro abilità. Il livello 4 di quattro abilità. E noi abbiamo solo la logica. Raggiungere il livello 3 di una qualsiasi carriera. E appena ci promuovono. E che... Abbiamo il tappetino da benessere qua fuori. Che l'avevo messo. Potresti raggiungere pian pianino il livello 3 dell'abilità di benessere. Che non sarebbe proprio una cosa malaccia. E tu... Riprendiamo il dipinto astratto con te. Prima di andare a dormire. Allora qua siamo a posto. Anche con il livello di pittura. Volevo vedere cosa veniva fuori. Cioè se veniva fuori una bella roba o una schifezza. Che sia carino o non lo possiamo anche tenere? Normale. Ma non è brutto. Allora me ne devi fare un altro sicuramente. Fammi un dipinto realista grande. E io intanto... Sbaglio sempre. Ci trovo un posto. Eventualmente posso togliere qualcosa. Tipo questi qui. O questi qui. Non è un problema. O qua sotto. Che siamo completamente al buio ma... Ah mamma! Fermi tutti! Ok. Non so cosa sia successo. E... Boh non trovo nessun posto dove metterlo. Metteremo qua dai. Al momento. Poi si può sempre spostare. E lo incornicciamo. Tiriamolo un po' più giù. Ok. Benissimo. Tu intanto prosegui. E qui come va? Ma sei bravissima. Io sarei già per terra. Però... Un po' alla volta. Un po' alla volta. Allora vieniti a fare una doccia veloce. E dopodiché magnati un po' di insalata. Cerchiamo di tenerci in linea il più possibile. Ok. Un po' alla volta. Un po' alla volta. Un po' alla volta. Un po' alla volta. Bravissima. E allora... Ah mi sa che lui ha anche finito. Pippi e Nanna Lui ha finito Sì, questo non mi piace per i colori Quindi direi di venderlo a un collezionista Benissimo E vai a dormire Ok, aspettiamo che arrivi Beatrice Che succede? Ho saputo C'è la babysitter che mi invita in discoteca Direi che è il massimo Va bene ragazzi, questo episodio finisce qua E finalmente abbiamo cominciato a lavorare E vedremo un po' come va la carriera di Beatrice Quindi lasciate un mi piace al video Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi